Crypto.com probabilmente ha creato, attenzione notizia del momento, state molto attenti perché come possiamo vedere dall'account twitter ufficiale di Crypto.com, leggiamo questo messaggio, abbiamo un piccolo numero di utenti che segnalano attività sospette sui loro account, a breve metteremo in pausa i prelievi perché il nostro team sta indagando, tutti i fondi sono al sicuro e come potete vedere a Ben Baller, qui abbiamo anche il tweet che ha pubblicato, ok, vediamo la risposta, sono stati rubati 4.28 ethereum e se andiamo a leggere la notizia qui in basso sul suo account, andiamo a tradurla in italiano così la leggiamo insieme al volo, nelle ultime 6 ore sono stati ripuliti circa 5.000 ethereum, quindi un totale di 16 milioni di dollari, quindi la prima cosa che dovete fare adesso è accedere al vostro account di Crypto.com, sia l'app sia l'exchange e controllare il saldo se avete tutte le vostre cripto valute. Ok, questa persona qui ha avuto due bitcoin rubati dal proprio account, ok, questa persona ha creato 27 bitcoin, 7 volte sul suo conto, incredibile, incredibile quello che sta succedendo, bisogna naturalmente, ci tengo a precisare una cosa importantissima, bisogna vedere se tutti questi messaggi sono reali, nel senso che in questo momento chiunque potrebbe scrivere qualsiasi cosa, ma quello che vi invito a fare è accedere immediatamente all'app di Crypto.com, se riuscite cambiate innanzitutto la password, che è una cosa importantissima, l'autenticazione a due fattori è stata disabilitata e bisogna rieimpostarla e comunque cosa positiva se avete i vostri fondi sono stati bloccati i prelievi, quindi se avete acquistato su Crypto.com e volete comunque trasferire i vostri fondi da un'altra parte, in questo momento non si può fare, è una cosa positiva perché almeno siamo al sicuro. Vi faccio vedere quello che succede quando entrate nell'account, probabilmente se avete già effettuato l'accesso non ve lo farà fare, vi richiederà di mettere email, password eccetera eccetera, o vi invierà una verifica via email di conferma, quindi comunque voi accedete e poi vi dirà di impostare, di resettare l'autenticazione a due fattori, ok? Noi abbiamo provato a farla e ci ha dato l'errore, quindi dipende se vi dà l'errore oppure no, ma da quello che stanno dicendo comunque probabilmente l'autenticazione a due fattori a mano a mano daranno la possibilità di reimpostarla, vi consiglio sempre di attivarla perché è fondamentale. Altra cosa importantissima, andiamo a leggere un altro aggiornamento, all'inizio di oggi un piccolo numero di utenti ha riscontrato attività non autorizzate nei propri account, tutti i fondi sono al sicuro, con molta cautela la sicurezza su tutti gli account è stata migliorata, richiedendo agli utenti di riaccedere ai loro account app ed exchange, reimpostare la loro autenticazione a due fattori, quello che vi abbiamo appena detto. 2.2, questo aggiornamento verrà distribuito agli utenti progressivamente nelle prossime ore, quindi se come a voi è successo che non riuscivate ad entrare inizialmente non vi preoccupate, non vi allarmate, fateci sapere però nei commenti se siete riusciti ad entrare, fateci sapere se avete tutti i vostri fondi o se è successo qualcosa, se è stato rubato qualcosa perché in caso naturalmente vediamo anche di supportarvi da questo punto di vista dicendovi come vi dovete comportare con l'assistenza di crypto.com. Andiamo avanti e quindi comunque non vi preoccupate perché poi potrete comunque entrare senza problemi e reimpostare l'autenticazione a due fattori, quindi se non riuscite a farlo come non siamo riusciti noi non vi preoccupate, riprovate. Una volta completati i prelievi verranno riabilitati, comprendiamo che questo potrebbe essere un inconveniente ma la sicurezza viene prima di tutto, grazie per il vostro sostegno. Qui in basso troviamo veramente tanti commenti, quindi ripeto vi basta andare sull'account twitter ufficiale di crypto.com oppure potete andare anche su telegram, c'è un canale apposito in italiano dove vi potranno dare anche supporto. Cosa importantissima, andiamo a vedere il prezzo di crypto.com con questo aggiornamento, in questo momento costa 39 centesimi, come possiamo vedere rispetto a ieri che stava a 41 centesimi c'è stato un calo. Probabilmente questo calo è dovuto anche a questo attacco e una cosa importantissima, quando riprenderanno i prelievi, questa è una cosa su cui ci stavamo ragionando proprio adesso, nel caso in cui molte persone inizieranno a vendere i propri cro, perché magari non si fidano più di crypto.com e se ne vogliono andare, ci potrebbe essere una diminuzione del valore del token. Speriamo di no perché crypto.com è un grossissimo exchange e quindi di conseguenza ci potrebbe essere da questo punto di vista un crollo totale del mercato, ma non crediamo che possa accadere una cosa del genere, ma noi vi stiamo anticipando questa cosa. Comunque, fondamentalissimo, ripetiamo, entrate all'interno del vostro account, accedete, controllate se ci sono tutti i fondi, una volta che è sicuro che ci sono tutti i fondi, reimpostate l'autenticazione a due fattori, cambiate la password, che è un altro aspetto importantissimo da non sottovalutare, e invece se sono stati rubati i vostri fondi, scrivete immediatamente all'assistenza di crypto.com perché immagino che hanno ricevuto moltissimi messaggi. Potete sia mandare un messaggio qui su Twitter, quindi andate e scrivete su Twitter, andate e scrivete su qualsiasi social in cui c'è crypto.com in modo tale da far capire che siete stati hackerati e poi inviate un messaggio all'assistenza di crypto.com. In più lasciate un commento qui in basso, fateci sapere se è tutto ok, fateci sapere se avete tutti i vostri fondi, se siete riusciti a reimpostare la password e l'autenticazione a due fattori e cosa ne pensate di questa vicenda.